Francesco, parlare degli arbitri non è mai bello per oggi, direi che ha inciso parecchio su questa partita, al di là poi fuorigioco dubbio sul gol loro, ma soprattutto i due rossi che sono stati francamente a mio avviso esagerati. Sì, ha detto tutto bene, gol forse in fuorigioco probabilmente, due espressioni regalate nel momento decisivo della partita, per carità facciamo mea culpa perché forse siamo entrati in campo a secondo tempo con troppa voglia di far gol, di andare in vantaggio e alla prima occasione ci hanno punito e guarderemo anche i nostri errori oltre a valutare la prestazione dell'albitro. La prestazione del Verone è stata molto positiva, fino al rosso che ci ha un po' tagliato le gambe, anche per le 10 contro 11, terza partita della settimana, ovviamente pesa, però il Verone fino a quel punto ha fatto una grande prestazione. Sì, grande prestazione come quelle che hanno contraddistinto l'ultimo mese da parte nostra. Peccato perché volevamo arrivare al derby con un risultato positivo, però forse arriveremo ancora più arrabbiati. Parlando di prestazioni positive ovviamente non si può parlare della tua, da ex qualcuno ti avrà rimpianto perché oggi ha fatto almeno 3-4 interventi decisivi. Sì, ha fatto quello che dovevo fare, però alla fine quello che conta anche per il portiere è il risultato e non prendere gol. Purtroppo non ci riusciamo con continuità a mantenere la porta inviolata e per questo abbiamo ancora tutta la settimana per lavorare. Preparare il derby col Chievo che a differenza nostra non prende mai gol, quindi dobbiamo prendere qualche spunto magari anche da loro. È una grande parata quella con la gamba su Terro uno contro uno con te. Sì, ho cercato di stare fermo fino all'ultimo e coprire il più spazio possibile. Ho stato bravo, fortunato e va bene così. I Rossi di oggi comunque condizionano questa gara ma condizionano anche la prossima perché perdere comunque Marquez e Sala per il derby e anche Greco che era diffidato sono defezioni importanti. Sì, defezioni importanti ma siamo in tanti, siamo tutti sul pezzo perché anche chi ha giocato meno a Genova si è fatto trovare pronto e quindi questo dimostra ancora di più la forza di questo gruppo. Che finale di stagione sarà il nostro? Un finale di stagione che vogliamo fare il meglio possibile per arrivare a fare più punti possibili, fare prestazioni importanti. Giocheremo spesso qua al Bentegodi dove ci esprimiamo al meglio. A proposito di gruppo, questa è una domanda che va al di là di questa parte, ma si dice che tra portiere sia meglio non cambiare mai, ma non sembra così almeno per voi tre perché insomma Raffaele è tornato e ha fatto una grandissima prestazione. Tu sei giocato oggi ma anche per la scorsa hai fatto bene, quindi forse questa alternanza fa bene anche a voi, non so, ti chiedo tra portiere. Le motivazioni si creano in questa maniera qua, quindi è un bene per il Verona che chiunque giochi riesce a fare il proprio e forse è stato un bene per questa stagione perché Raffaele ha avuto qualche problema, io ho giocato tanto e quindi personalmente e anche come gruppo di portieri penso che dobbiamo essere molto contenti del nostro rendimento.